Trevi DPL 2230 App è la nuova cornice digitale multimediale Smart e Wi-Fi che riceve e visualizza immediatamente le foto inviate da tablet e smartphone di amici e familiari da ogni parte del mondo. Sul grande display IPS LED Touch da 10 pollici puoi ricevere foto anche con brevi messaggi di testo e salvarle sulla memoria interna da 8 GB. Il suo funzionamento è semplicissimo. Connetti la cornice ad una rete Wi-Fi, scarica l'app dedicata sul tuo dispositivo e comincia ad inviare le foto alla cornice ovunque tu sia grazie alla sola connessione Internet del tuo cellulare. La cornice digitale di Trevi possiede un timer di accensione e spegnimento programmabile e un comodo supporto da tavolo per essere esposta sia in orizzontale che in verticale. Finalmente, anche se sei lontano per lavoro e in vacanza, potrai vedere facilmente e in tempo reale le foto dei tuoi cari e sarà come averli sempre con te.